Da il cartellino giallo, va Sandro, rete, rete, Sandro non sbaglia, l'arbitro si, Sandro no, 3 a 0, partita chiusa, Sandro figlio nostro, Futtis, Capitano Futuro, triplica il risultato, 3 a 0, Gucci Gang in crisi totale, graziato, Iwan Bissaka fa un pallo volontario, l'ultimo uomo, ce l'ha Teo, Revis si libera, Revis si libera, Revis col volamento, rete, rete, attendente, retrabino, vomito, 4 a 2, poker, mostra dal zoppo, Il pallonetto delicatissimo, grande calcio, Enzi in dotation, fuori Zambro munito, dentro Diogo Dalot, Futuro flash, dai, mamma, sembrava dentro, AS, un errore, Kakà, 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 un pallonetto delicatissimo, Con il portiere in porta, Kakà, al 12, porta in vantaggio i ragazzi, il winner, past and present, è in vantaggio, 1 a 0, al 12, Kakà, Oh che palla, Sandro, e ci riva ancora, Bomeyang, che azione, 4 a 0, ombreline l'ombrinca, Patrick per Pierre Merike, Banana Young, Futish, Un'azione bellissima, Tonali voleva segnare di pallonetto, ma Bomeyang, come importa con la palla, Esce il portiere, Tonali, rete, Tonali da centrocampo, 11 a 0, al 53 e mezzo, Tonali da centrocampo, che gol, che umiliazione, Ormai ci sono dei giocatori troppo forti, inutile fare uscire il portiere, se la mettono dove gli pare, Gullit con il portiere che esce, Gullit dalla tre quarti, 12 a 0, al 57, che spettacolo, Gullit ultra prime, 12 a 0, Suola, pallonetto, e rete, facile facile, Sandro prende la mira, rete, 13 a 0, da centrocampo, Tonali, 13 a 0, all'unora, Cettino, che spettacolo, Pum, Sandro, figlio nostro, tutti, Io non ce la farei mai restare a prendere 14 gol, è proprio umiliante, Possono arrivare degli altri, Kakà, lo umilia così, 15 a 0, salta il difensore, salta il portiere, con una sola skill, la mossa è dello zoppo, e poi, Destro, a porta semi vuoto, con il difensore, alla ruota del parroco, spesso in putta in scivolata, e tentano a disperare.